«Certiamo di parlare in due minuti, mentre qualcuno aggiusta le tende alla finestra e gli amici sono già per le scale. Sempre c'è poco tempo quando dobbiamo fare i conti con i morti. E così dico mia madre di avere pazienza. A lei che vicina a morire ancora vuol sapere com'era la mia cena».